Salve a tutti, mi chiamo Gloria Capoduro, insegno inglese all'Istituto Tecnico Fermi di Pontedera. Anch'io, come alcuni dei miei colleghi, ho avuto la possibilità di partecipare al progetto Erasmus Plus nel percorso di Job Shadowing, grazie al quale ho potuto seguire alcuni insegnanti del Marian Gymnasium, che è una scuola tedesca che si trova a Bocholt. In questa scuola vanno studenti dai 10 ai 18 anni che poi frequenteranno l'università e esse hanno la possibilità di scegliere già a 10 anni un percorso bilingue, quindi dai 10 ai 18 anni. Le parole chiave che posso considerare indicative dell'impatto che questa esperienza ha avuto sulla mia didattica sono debate e autovalutazione. Debate, tra l'altro, è una delle avanguardie metodologiche suggerite dall'Indire, è una tecnica che io ho osservato e permette ai ragazzi di svilupparsi delle opinioni critiche, di sviluppare anche competenze di public speaking e anche migliorare le loro abilità di ascolto e aiuta i ragazzi ad avere un ruolo attivo in ogni processo decisionale. Grazie a questa metodologia, alla metodologia CLIL, i ragazzi imparano anche ad essere più autonomi e anche nella valutazione e quindi appunto per me sono queste due le parole che segneranno la mia didattica da ora in poi.